Ieri la giunta della Camera di Commercio di Bari ha confermato i nomi alla guida del nuovo Consiglio di Amministrazione della società Fiera del Levante. Alessandro Ambrosi, presidente, contemporaneamente anche alla guida della Camera di Commercio di Bari, e al suo fianco Giuseppe Riccardi, rappresentante di CNA, e Marina Lalli, Confindustria. Seguiranno altri due nomi indicati da Bologna Fiere. Sui nomi della Fiera ancora non ci sono dati certi, ma l'ok per l'operazione è arrivato dall'Emilia Romagna con una delibera del CDA di Bologna Fiere. La Fiera del Levante dal 1 gennaio 2017 sarà una SPA e non più un ente, come adesso. I soci sono Camera di Commercio di Bari, 85% delle quote, e Bologna Fiere, 15%, che metteranno sul tavolo un milione di euro nel primo anno e due milioni negli anni successivi per ristrutturare i padiglioni. La firma del contratto per dar vita all'Agnuco è prevista per lunedì prossimo 12 dicembre. Tre giorni dopo scadrà l'attuale gestione commissariale che guida la Fiera.